Io mi aspetto delle buone idee, ci sono alcuni nomi molto interessanti, Colà è un manager di comprovata affidabilità e capacità, dopodiché anche loro affrontano un territorio, come si dice, vergine dal loro punto di vista, non vedo nessun esperto di pandemia, ammesso che nel mondo ce ne sia, visto che l'ultima pandemia che abbiamo affrontato era molti decenni fa, almeno delle proporzioni di queste, quindi credo che debbano avere tutti grande umiltà, grande volontà di confronto con gli enti territoriali, sindaci e le regioni e poi perché no, chiunque abbia delle buone idee è assolutamente benvenuto in questa situazione di crisi, però c'è bisogno di tenere presente che poi l'Italia è una democrazia e ci sono delle persone che sono elette e la politica non può abdicare alle scelte rimbalzandole una volta su un professore universitario di virus e un'altra volta su un professore universitario ed è un'altra cosa, i consulenti, i tecnici sono sempre benvenuti, vanno ascoltati con grande attenzione, poi ci vuole il coraggio di scegliere.